... Proseguono i test nazionali di Talert, quello di oggi è stato il secondo in Abruzzo, ma questa volta circoscritto in un'area più limitata. Alle 12.04 il messaggio di test ha interessato una parte del territorio aquilano. In questo caso la zona interessata dal test è stata quella di accento un impianto di stoccaggio di carburanti sotto la frazione di Pianola. Chi si è trovato nelle vicinanze ha ricevuto con qualsiasi operatore telefonico il messaggio telematico di allerta preceduto dalla parola test. Accompagnata al messaggio un link per compilare un questionario che permetterà alla protezione civile nazionale di capire cosa migliorare. Nella prima occasione l'oggetto era stato il terremoto, in questo caso un incidente rilevante in uno stabilimento industriale. Italert è un sistema di allarme pubblico di informazione alla popolazione. Il 12 febbraio dovrebbe concludersi la sperimentazione che si sta portando avanti a livello nazionale. Questo è il secondo test che è stato effettuato, il primo il 26 settembre dello scorso anno sull'intero territorio regionale, adesso in una zona dell'Aquila, in una zona più circoscritta, dove si è simulato un incidente in uno stabilimento di stoccaggio di carburante. Il messaggio è stato ricevuto nell'arco di due chilometri, quindi tutti i cittadini che si sono trovati a passare in quell'area hanno ricevuto questo messaggio. I nostri operatori di protezione civile sono stati dislocati sul territorio per verificare la precisione della ricezione del messaggio e sono collegati via radio con la sala operativa regionale e in tempo reale il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sta seguendo gli esiti di questo test.